Tra poco più di un mese suonerà la prima campanella anche nell'Aretino, con il ritorno degli studenti sui banchi di scuola. Ovviamente si sta già lavorando per un rientro all'insegna della sicurezza, come assicura la presidente della provincia di Arezzo. Il dialogo con gli uffici del Ministero dell'Istruzione a questo proposito è già stato infatti avviato ed è stato messo in chiaro che l'obiettivo sarà la presenza in aula al 100% in tutte le scuole di ogni ordine grado. L'osservanza delle misure necessarie per la prevenzione del contagio, spiega Silvia Martini Chiassai, rimangono fondamentali come il distanziamento resta prioritario ma non dirimente. Quanto alla mascherina potrà essere non utilizzata dove sarà possibile mantenere un metro tra le rime bucali degli studenti e due dalla cattedra. Nelle scuole in cui simile distanziamento non sia possibile per motivi strutturali resta invece obbligatorio l'uso dei dispositivi. La presidente della provincia aggiunge poi di essersi adoperata sin dal suo insediamento con gli uffici dell'ente per trovare una soluzione alla carenza cronica di spazi, facendo una capillare ricognizione su tutto il territorio provinciale e di non essersi tirata indietro per fare interventi di adeguamento e sostenere costi necessari per l'affitto di ulteriori strutture. In materia di trasporti viene prevista invece la capienza dei mezzi pubblici dell'80% e l'attività sarà riorganizzata attraverso tavoli prefettizi con il rinnovo del progetto Ti accompagno per gestire l'affluenza alle fermate. La situazione è quindi costantemente attenzionata, conclude su tutto il territorio, in stretta sinergia con dirigenti scolastici e sindaci per una ripresa a settembre in sicurezza della scuola.